ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare maxi dal case e oggi mi trovo a selva candida in via cogliate 227 è un comprensorio di linea schiera di recente costruzione del 2019 che i proprietari hanno comunque completamente ristrutturato nel 2023 adeguandolo un po le loro esigenze e i loro gusti l'ingresso chiaramente indipendente il vino si sviluppa su tre livelli in classe energetica 2 qui davanti a noi dove vedete queste questi gradini c'era l'ingresso principale loro oggi hanno nella ristrutturazione modificato quello che sono gli ambienti e quindi la porta blindata con l'ingresso principale è qui al piano semi interrato piano semi interrato che me ne da ridere dicendolo perché perché guardate la luce che c'è con tutte quante la mattina con il sole che arriva da questa parte infatti questa questo vino si chiama alba proprio perché il sole sorge davanti a questa casa è molto luminosa la zona giorno c'è lo spazio per un divano capiente un tavolo per sei persone che è anche estendibile e una cucina eccola qui angolare quindi una zona giorno di circa 30 metri quadri e in questo in questo piano c'è il primo dei tre bagni eccolo qui dove ci sono sanitari lavabbo e poi qui dietro un angolo lavanderia che è molto comodo lavatrice asciugatrice la fortuna di questa casa come dicevo prima al di là del discorso della classe energetica perché una classe a due è che ogni piano ha il proprio bagno e che anche questo piano qui che abbiamo appena visto è un seminterrato ma tutti e quattro i lati sono liberi fuori terra perché confinano con altri villini e uno è il lato di accesso sarendo al piano rialzato dove originariamente in questa stanza ecco qui la porta blindata c'era il soggiorno con angolo cottura oggi è stata ricavata una camera da letto per per due ragazze il bagno cieco ma con ariatore e con doccia e l'altra stanza questa era la camera da letto padronale ecco qui l'accesso sempre verso il giardino di proprietà infine ci sono in pvc ci sono le zanzariere c'è tutto riscaldamento a pavimento su tutti e tre i piani e ogni piano al proprio termostato così che si possa adeguare la temperatura alle proprie esigenze salendo eccoci qui l'ultima stanza quindi la terza camera da letto come vedete il soffitto è leggermente più basso ma comunque è vivibile come stanza è un letto matrimoniale l'armadio comodini e cassettiera il bagno con un lavoro che hanno fatto loro quindi ingrandendo tutta questa doccia walk in e il balcone quello che a me piace di questa casa oltre alla luce e oltre il fatto che una classe a due guardate che affaccio tranquillissimo se state cercando una casa in zona selva candida con tre camere da letto una grande zona giorno con angolo cottura uno spazio esterno vivibile e un posto auto non esiste da contattarmi questo è il villino alba è una classe a due e vi aspetto perché vale la pena vederlo per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi ciao 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 ciao